Ma la pressa allena il gluteo? L'altro giorno ho postato un video su Instagram che ha creato un video veramente, un sacco di commenti, un sacco di gente indignata, quindi in questo video qua cercherò di puntualizzare alcune cose. E prima di iniziare vediamo logicamente il video che ho postato. La pressa non allena i glutei. Mi sarà capitato di vedere in rete questo disegnino, questo è l'omino, questo è il bacino, questa è la pressa, questo è il femore, il ginocchio, il piede, la pedana della pressa. Ora cosa dice questo disegno? Dice la pressa mi spinge in questa direzione. Quindi se vado a tracciare quello che è il moment arm del ginocchio, il moment arm che c'è sulle pelli, sul bacino, vedo che questo è molto più grosso. Quindi sostanzialmente il mio gluteo sarà più stimolato, i quadricipiti saranno meno stimolati e questo è il motivo per cui la pressa allena il gluteo. Questo, mi dipa dietro, è sbagliato. E ti spiego perché, appunto, stiamo considerando soltanto il carico sul bilanciere, ma non consideriamo quella che è la forza che possiamo generare. Ora, il gluteo è il distretto più forte del nostro corpo, quindi se anche si sorbarcasse di più tensione, cosa che vedremo essere sbagliato, comunque sarebbe controbilanciato con la forza che ha. Secondo punto, oltre a poter esprimere più forza, il gluteo non è l'unico estensore dell'anca. Abbiamo il compartimento dei femorali, quindi bicipite femorale, semimembranoso, semimembranoso e in parte in flessione dell'anca l'attività estensoria viene eseguita anche dagli adduttori. Quarto punto, il gluteo sfrutta un effetto chiamato anatomical pulley, quindi puleggia anatomica, che sta sul fatto che ruotando e passando attorno al bacino, alle pelvi, scarica tensione sulla struttura scheletrica. Quindi non solo è più forte, non solo condivide il lavoro con un'altra roba, anche un vantaggio meccanico dato dalla nostra struttura scheletrica, quindi scarica molto della tensione che deve generare. Ma se non bastasse, questo disegno qua alle mie spalle è fondamentalmente sbagliato a livello di sistema di forze in gioco. Capiamo perché. Qui io sto ragionando in realtà sulla pressa, non sulla mia biomeccanica. Ed è stupido perché se sono io a esercitare una forza, devo ragionare su quella che è la forza che esercito io. E se mi segui su Instagram sai già che la tensione che io esprimo quando vado a spingere una pressa non è in questa direzione perpendicolare alla pedale, ma è leggermente inclinata in alto. Sostanzialmente per equilibrare il tutto spingiamo sull'avampiede. Quindi questo e questo sono sbagliati. Io avrò una spinta che andrà più o meno in questa direzione, leggermente in avanti, e vuol dire che la mia forza uguale e contraria va in questa direzione. Quindi laddove io volessi andare a tracciare quello che è il moment arm avrei questo e questo. Laddove sul ginocchio c'è molta più tensione al carico dei quadricipi. Voglio concludere con una cosa. Io cerco di rendere questi concetti, i concetti di biomeccanica, di fisiologia, quanto più semplici ed intuitivi possibili. Ma attenzione, non confondete questa mia semplicità nello spiegare le cose con superficialità. Perché dietro ad ogni concetto che dico c'è tanto ragionamento, soprattutto una certa padronanza di alcuni argomenti. Se volete approfondire in maniera molto più chiara e siete in dubbio su alcune cose che dico, uno c'è la sezione commenti sotto in cui si possono fare dei confronti in maniera educata, oppure stanno per uscire i nostri corsi di biomeccanica a livello 1, livello 2, che stiamo registrando in questo momento, e usciranno il prossimo anno su Rhino Nation, la nostra piattaforma di formazione. Quindi se questo ti risulta complicato, alla fine del percorso di formazione avrai tutto assolutamente chiaro e limpido. E seguimi su Instagram. Ora, primo punto, che cosa sto dicendo nel video? Io, come ho scritto nella caption, il video non vuole essere una fedele rappresentazione del sistema di forze in gioco. Non potrebbe mai esserlo, perché per farlo dovremo avere la pressa specifica, ogni pressa logicamente cambia, nonché la persona specifica, la biomeccanica di ciascun individuo è diversa. Quindi non può e non vuole essere una rappresentazione fedele di un sistema di forze. E lo specifico perché tanti dei commenti cercano proprio di far leva su questo fatto. Ah, ma è il disegno fatto in questo modo, ma non è preciso di qua e di là, eccetera. E cercano di spostare l'attenzione dal senso del video, da quello che sto dicendo. E quello che sto dicendo è che ragionare soltanto sul moment arm, quindi fare quel disegnino in cui tracci la linea e dici, ah, vedi, di qua e di là, è forviante. Per le quattro ragioni menzionate. That's it. Quindi se si volesse dire, Ludo, hai fatto un video sbagliato, si dovrebbe dire, no Ludo, per rappresentare un sistema di forze e quello che succede è lo stimolo dei diversi distretti muscolari, puoi ragionare soltanto sul moment arm. Per queste ragioni, cosa che nessuno ha fatto. Questa tendenza a spostare l'attenzione e cercare di vagare o non capire, far finta di non capire, poi non lo so, il senso, il concetto, il messaggio che un video manda, inizia a essere fastidiosa. Quello che soprattutto è fastidioso è il fatto che alcune persone si sentono toccate nelle loro convinzioni più profonde, commentano con tanta cattiveria ed astio e poi quello che fanno è che ripostano il video nelle loro storie. Tra parentesi, a me arriva la notifica, io cerco di rispondere a tutti quanti su Instagram, quindi vedo anche tutte le cose, quindi vedo anche queste storie in cui mi insultano, ripostano nel loro commento, cercano like di altri follower che arrivano e quindi si crea questa situazione in cui il post finisce in cacciara, perché per quanto io cerchi di rispondere a ogni commento argomentando i perché e i per come, i miei commenti finiscono un marasma di insulti, di non risposte, eccetera, eccetera. Quindi mi ritaglio un piccolo spazio per puntualizzare alcune cose, perché è giusto che vengano fatte, sempre per cercare di evitare l'attenimento. Quindi vediamo quelli che sono i punti un po' più interessanti che sono stati sollevati. Dunque la prima obiezione è stata che ho disegnato, fatto un disegno favorevole in modo da far girare conti come andava a me, eccetera. Ora, non è chiaro esattamente cosa si intende con questa frase, perché non è stata spiegata, però dopo è stato spiegato che avrei disegnato una pressa a 75 più che a 45 gradi. Fermo restando che non ho mai detto di parlare di una pressa a 45 gradi, in realtà l'inclinazione del disegno, della pressa in particolare, non impatta tanto, al punto che, per farvelo capire, posso fare questo, questo è più o meno il disegno che ho fatto, se vogliamo una pressa più su 45 gradi, posso fare questo, se vogliamo una pressa orizzontale, posso far questo. L'unica cosa che realmente cambia può essere l'inclinazione tra lo schienale e la pedana, ok? Però non va a cambiare quello che è il concetto di gioco di forze che si applica bene o male qua, anzi, più a basso lo schienale, come vedremo, peggio è la situazione. Ma su questo torneremo dopo. Un altro punto è il fatto che i femorali non partecipano come estensori dell'anca nel caso della pressa. Ora, questo è un punto assolutamente corretto in linea di massima, ma vi voglio far notare una cosa. Se vado sul profilo della persona che ha fatto questo commento e vado a vedere i messaggi, ha risposto a una mia storia in cui dicevo esattamente questa cosa. Nello specifico, non esiste la pressa per i femorali, sta specie di posizione preparto è un abomio biomeccanico. I femorali non hanno un ruolo primario in una pressa, non possono averlo. Se si accorciano come estessori dell'anca, minima estensione in quanto rimane flessa, si allungano durante l'estensione del ginocchio. Mi ricordo un po' quando nel sesto di Harry Potter, Piton lo guarda e dice come osi usare i miei stessi incanti contro di me, Potter? Sì, sono io il principe mezzosangue. Ecco, più o meno è lo stesso discorso. E lo sottolineo perché la cosa che mi viene da pensare, ma se sai che questa argomentazione l'ho già detta, l'ho già affrontata, quindi è una cosa che io stesso ho detto, non ti viene piuttosto da chiedermi perché abbia detto apparentemente il contrario? E in questo caso ti avrei risposto quello che segue, ossia che il punto di questo disegno che è stato fatto per proporre una pressa per il gluteo è quella di minimizzare il più possibile l'estensione del ginocchio in favore dell'estensione dell'anca. Quindi noi semplifichiamo, diciamo, si accorcia da una parte e si allunga dall'altra. Però in realtà questa è una semplificazione perché dobbiamo cercare di capire il quantum, ossia quando faccio una pressa con un'esecuzione chiamiamola standard, intelligente standard, quello che ricerco è tanta flesso estensione del ginocchio e poca flesso estensione dell'anca. Quindi il rapporto delle due articolazioni porta il femorale in realtà in svantaggio perché tenderà a allungarsi un filino. Mentre invece questa esecuzione fa esattamente il contrario, un po' il presupposto e anzi quello che molte persone hanno scritto nei commenti per dire che allena il gluteo. Quindi in realtà nel complesso il femorale tenderà ad accocciarsi, non solo perché biomeccanicamente succede un'altra cosa, ossia che il femorale applica un lavoro di estensione dell'anca perché avvicina questo punto in questa direzione, quindi va verso l'alto. Questo accentuerà ancor di più questa forza in questa direzione quindi di fatto andrà a sgravare il gluteo a livello dell'anca. Quando noi diciamo che il femorale agisce come stabilizzatore del movimento quello che stiamo dicendo non è che non lavora o che non aiuta ma che per farla in maniera semplice si comporta non tanto come un elastico che si accorcia quanto piuttosto come una corda che rimane più o meno rigido però poi va a far trascinare il movimento. Quindi il discorso che nella pressa non alleniamo i femorali non vuol dire che non partecipano, non vuol dire che non hanno un ruolo estensorio dell'anca, vuol dire che non vengono allenati quindi non andiamo a dare uno stimolo che possiamo considerare uno stimolo ipertrofico. Quindi fate molto attenzione a distinguere quando parliamo di allenare, quindi imprimere uno stimolo allenante in un'ottica ipertrofica, uno stimolo logicamente progressivo nel tempo quindi un'ottica anche avanzata dallo stimolare e attivare. Tutti i distretti vengono coinvolti, tutti i distretti si attivano hanno una partecipazione a uno schema motorio, non possiamo ragionare soltanto in bianco o nero. Ah, piccola parentesi, non vi azzardate a far partire uno shitstorm su questo ragazzo, un ragazzo molto a modo, ha sempre risposto, ha semplicemente fatto un commento che è un po' degenerato ma per altre persone, poi per sé il ragazzo ha fatto delle osservazioni, va benissimo come cosa, anzi è stato probabilmente l'unico commento molto educato, molto ben posto in cui ho analizzato diversi punti e proprio per questo mi permette di dare una risposta, quindi questo ragazzo è stato veramente impeccabile e d'oro. Quindi questo video non diventi un attacco a questo ragazzo e capiremo tra un attimo il perché. Ora l'altro punto riguarda l'intervento degli adduttori, ossia il fatto che io abbia detto gli adduttori estendono a Lanca e, venga detto, non sono gli adduttori ma uno solo, il grande adduttore, l'adductor Magnus. Ora, in effetti se andiamo a vedere la prima pagina di Wikipedia o di un libro di anatomia, vediamo che molti distretti del complesso degli adduttori agiscono come flessori, il grande adduttore è l'unico che agisce come estensore dell'Anca, ha anche questo ruolo. Peccato che se andiamo alla seconda pagina, quello che possiamo vedere è che in una posizione di flessione dell'Anca, quindi ad Anca flessa, che in quel caso è esattamente quello che succede nella pressa, molti altri adduttori vanno a cambiare orientamento e acquistano leverage e si comportano quindi come hip extensor, quindi estensori dell'Anca. Questo lo possiamo leggere in questo paper del Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy. All'interno c'è anche una tabella di diversi momentarni, di diversi muscoli, di diversi gradi, insomma, molto interessante, la possiamo vedere tutto. Ma questa è una mia spiccia perché fa parte in realtà della dinamica di movimento di uno squat, quindi quando all'ABC vai a vedere come funziona lo squat, sai che in basso all'Anca flessa c'è un intervento di diversi adduttori che vanno poi a perdere leverage e in fase finale di sfinta, ad Anca quasi estesa, interviene il grande adduttore. Ora su questo discorso dell'adduttore mi voglio fermare un attimo con voi perché c'è uno spunto di riflessione importante qua. Questo commento ha ricevuto probabilmente un 200 like. Perché? Perché è stato preso, screenshotato, da tutti gli influencer, fit influencer, e non lo dico in senso dispregiativo, gli science-based coach, evidence-based coach, research-based coach, esperti di biomeccanica, l'hanno preso, l'hanno screenshotato, postato nelle proprie storie, insultandomi. Quindi ovviamente hanno diretto il traffico verso questo commento, questo per dirvi che questo ragazzo non deve essere immolato, anzi ha detto la sua, super, sacro santo, ok? Per punti, preciso, eccetera, eccetera. Il problema è il comportamento delle altre persone. È stato postato nei gruppi Telegram, perché a me gli screenshot me li mandano, che vi credete? Ce l'ho tutti. Nei gruppi Telegram per dire di andare a commentare e insultare, e nei gruppi per insultarmi la mia volta. Quindi c'è stato questa mega situazione in cui io di base mi trovavo dicendo, ragazzi ma io ho detto una cosa giusta. Il commento è sbagliato. Perché dovete far così? Non è giusto. Ho fatto un contenuto, questa cosa, certe cose possono essere opinabili, che dico, questa cosa è giusta. Ora, palasciando il fatto che nessuno di queste persone che basa la propria figura sul dire che è il meglio del mondo, perché poi sono persone molto esaltate, è il top che c'è in circolazione, che tutti gli altri non capiscono niente, che io non capisco niente da quanto pare, a nessuno di loro, nessuno conosce un concetto basilare come la meccanica dello squat. Perché di questo parliamo. L'apportamento degli adduttori durante un'accosciata, flessione dell'anca o anca estesa, è squat. Io non voglio, cioè non è una cosa complessa, non stiamo parlando di uno schema motorio super complesso, del rapporto di slittamento, di protraction, di scapolo toracica rispetto alla glenomerale durante un iliac pulldown, queste cose super complesse. Ma ragazzi, lo squat. Cioè veramente allora meritate quello che ci dicono a noi che parliamo di biomeccanica, che cerchiamo di fare paroloni, rendere cose complicate, ma le cose semplici noi sappiamo. Lo squat. Come funzionano i cazzo di adduttori nello squat. È uno one on one, ok? Ma dimostrate che voi vedete la prima pagina di Wikipedia, ciao, ok, questo funziona così, questo cos'è, ok, perfetto, lo uso per il video, adesso sono il nuovo esperto di biomeccanica, il nuovo research coach. Cioè, ma la cosa che più mi spaventa di questa situazione è che loro che dovrebbero essere i research coach, gli evidence based, non hanno avuto un approccio scientifico, che è la base. Vado a vedere che cosa dice una parte, vado a vedere la quattro parte e mi informo, mi informo. Cioè, Ludovico ha detto una cosa, questo dice non è vera, fammi andare a controllare. Perché non dico neanche per qualsiasi ragione, per sapere che cosa scrive, ma anche per sapere voi. Sto rosso qua, ok? Che sono dieci anni che divulga e che butta sempre sulle stesse cose, che parla di biomeccanica. Ma perché ha detto sta cosa? Non giusta sbagliata. Perché l'ha detto? Ci sarà forse una ragione. Perché? Perché è un attacco alla persona. Che è il bias che si vede in tutto quello che viene proposto oggi. Che è il motivo per cui tutti i contenuti che vengono offerti ora non sono contenuti che vengono offerti perché c'è un'applicazione del metodo scientifico. Ma perché si prende una ricerca, uno studio buttato là che dice una cosa che può essere virale sul social e fare il reaching e viene pubblicata. Perché deve fare il reaching? Perché uno dei modi per fare il reaching è dire che Ludovico Lemme ha torto. Questo è quello che c'è dietro. E quello che mi spaventa, sono spaventato per le altre persone, per gli utenti. Perché poi ti credo che vengono a me. Ah non si capisce più niente, ognuno dice la sua e di qua e di là. Grazie al cavolo. Questo è quello che c'è dietro. Ora ultima parentesi e apro e chiudo riguardo al grande adduttore. Il grande adduttore è di per sé un estensore che non è troppo importante rispetto agli altri. Cioè partecipa, sta nel mezzo da un buon contributo. Questo è vero in che non andiamo a una posizione di anca flessa, che poi caso è esattamente quello che abbiamo in una pressa. Perché questo? Perché possiamo vederlo dalla sua anatomia, dalla sua biomeccanica, acquisisce un vantaggio meccanico e quindi è tendenzialmente più forte rispetto all'attività del grande gluteo, rispetto all'attività dei femorali. Femorali in una pressa ne abbiamo già parlato, si parla di estensione in generale, però ad anca flessa il grande adduttore interviene molto di più. Se prendiamo la pressa, l'attività di estensione dell'anca della pressa rispetto a un ax squat, a una variante di stacco, o una SLDL eccetera, che ha un tratto di rom in cui il gluteo lavora dalla massima flessione dell'anca alla massima estensione, ecco nella pressa vado a ridurre il rom sostanzialmente nel tratto in cui l'anca rimane flessa, quindi dalla massima flessione fino a un'anca un po' più estesa. Ok, questo è il tratto di rom in cui in realtà il grande gluteo è uno svantaggio meccanico e il grande adduttore è tendenzialmente favorito. Quindi questo vuol dire che non posso, anche ammesso e non concesso che ci sia più un moment arm a carico dell'estensione dell'anca, non posso dedurne che quindi è il migliore esercizio per i glutei, perché c'è tanta altra roba che devo considerare, che devo mettere nel caldarone, roba che come vedete non è un minimo aiuto qua e là o una minima attività, no, sono vantaggi meccanici che sono importanti. Quindi è una visione che non è semplicemente semplificata, ma è proprio superficiale di quello che succede su una pressa. Quindi chiusa parentesi su questo discorso. Ora un'altra cosa che è stata detta è che questo effetto di puleggia anatomica del grande gluteo lo metterebbe in vantaggio meccanico e questo più questo più questo non lo rendono un fattore limitante dell'alzata. Di nuovo qua c'è un grande misunderstanding del concetto di vantaggio meccanico. Il vantaggio meccanico è un fenomeno che può portare a diversi outcome, diverse conclusioni. Ora, senza entrare nel vivo del discorso, di nuovo ci sono i nostri corsi di biomeccanica che stanno per uscire, ma generalmente in questo caso, qua è il discorso, che il gluteo è in una posizione di vantaggio. Cioè quello che dobbiamo capire è che nel bodybuilding più un distretto muscolare viene messo in una posizione tale per cui deve faticare per partecipare a quello che stiamo facendo, più esso verrà stimolato a parità di coinvolgimento questo e quest'altro. Quindi se io ho un distretto muscolare e lo metto in un vantaggio meccanico, ho due possibili outcome principali. Un primo outcome, una prima conseguenza, ecco, non mi ha guardato scusate, una prima conseguenza, subito per il pattern motorio, questo e quest'altro, parteciperà di più nella sinergia e sinfonia dell'alzata, del gesto motorio, dello schema motorio. Quindi questo distretto ha un vantaggio meccanico, quindi quando si fa questo lavoro il nostro organismo va a reclutarlo maggiormente perché è quello che meglio si presta a compiere un determinato ruolo. Questo è per esempio il caso del gastrocnemio nella funzione di stabilizzazione del ginocchio durante l'estensione del ginocchio rispetto al femorale quando siamo in massima flessione, quindi a ginocchio flesso il gastrocnemio ha un vantaggio meccanico rispetto al femorale che tende ad essere perso a ginocchio steso dove il femorale guadagna vantaggio meccanico. Un'altra forma di, un'altra conseguenza, anzi di vantaggio meccanico, è il fatto invece che un distretto posta una certa sinergia di intervento, quindi partecipando la sinergia di intervento non va a cambiarsi, viene messo nella condizione di poter esprimere meno forza per arrivare alla stessa conclusione dello stesso schema motorio. Quindi non dovrà faticare più di tanto, è quello che sappiamo che alla base del bodybuilding c'è il concetto che più un distretto è messo nella condizione di dover faticare per partecipare a una certa sinfonia, più subirà un certo stimolo ad attivamento ipertrofico, o meglio questo è uno dei fattori che incentiva lo stimolo, poi ce ne sono tanti altri. Questo concetto di vantaggio meccanico è anche il motivo per cui, e qua torniamo al discorso della partecipazione e non allenamento dei femorali, c'è questo paradosso che poi viene conosciuto come il paradosso di Lombard, per cui in un movimento di accosciata, cioè un'estensione del ginocchio, un parallelo a un'estensione dell'anca, ma c'è un intervento importante, quindi una contrazione effettiva, efficace ed importante del femorale e del quadricipite, in particolare anche del retto femorale, perché il femorale a livello di estensione dell'anca ha un vantaggio meccanico che il quadricipite non ha, mentre invece a livello del ginocchio il quadricipite ha un vantaggio meccanico che il femorale non ha. Quindi per il principio per cui la forza è uguale nel punto di origine e inserzione, si possono avere questi movimenti simultanei, che questo è un'altra peraltro delle ragioni per cui il femorale viene coinvolto ma non viene allenato, perché poi un discorso diverso è quello dell'allenamento. Quindi come estensore dell'anca il femorale ha in un certo senso un vantaggio meccanico rispetto a un suo antagonista, tale per cui c'è un ottimo equilibrio di forze, ma questo non porta ad un effettivo suo allenamento per X ragioni. Quindi allenare, femolare, coinvolgere, sono tutte cose diverse, stiamo attenti ai termini che vengono utilizzati. Quindi questo concetto di vantaggio meccanico è molto poco compreso in qualche senso. E quello che è stato detto proprio in funzione di questo è il discorso che questo effetto di pureggia anatomica, ma guarda c'è pure sullo squat. Ah sì assolutamente c'è anche sullo squat, è uno dei motivi per cui lo squat non è il principe degli esercizi per il gluteo. Ma quello che ci tengo a sottolineare è che ragionate la differenza tra pressa e squat a livello di estensione dell'anca. La pressa ha un'estensione dell'anca che è più piccola rispetto allo squat. E quello che tendenzialmente dà come, per virgolette, svantaggio, è che lavoriamo in un tratto più piccolo, ma che è il tratto di massimo allungamento. Un tratto di massimo allungamento dove, come abbiamo visto, in realtà l'intervento e il vantaggio meccanico, in questo caso che porta a una maggior partecipazione, quindi cambia la sinfonia, questa è la prima conseguenza del vantaggio meccanico, lo abbiamo a carico del grande adduttore. Quindi in realtà stiamo lavorando su quel tratto dove il gluteo non è messo nelle condizioni ideali, mentre sullo squat lo alleniamo su un tratto più completo, soprattutto quello di conclusione della fase di estensione, dove il gluteo ha un vantaggio e la possibilità di esercitare più forza, perché non intervengono tanti adduttori, il grande adduttore non ha vantaggio meccanico, eccetera. Ora, in funzione di questo, quello che è anche stato detto è il discorso della stabilità. La pressa offre una maggiore stabilità e quindi questo è un vantaggio. Ragazzi, qua c'è ancora una non comprensione della terminologia. La pressa non offre stabilità, offre bracing. Il bracing è diverso, la stabilità è una conseguenza del bracing. La pressa quindi offre un ottimo bracing e sicuramente questo ci permette di stabilizzare il movimento. È un aiuto che ci porta come conseguenza a una buona stabilità. Ma ricordiamo sempre che la stabilità non è un problema nel caso dello squat e dello stacco. Nel senso che altri modi per raggiungere la stabilità è quello di utilizzare la nostra stessa stabilità. E noi nello specifico abbiamo due forme di stabilità. La stabilità funzionale è una forma di stabilità strutturale e nel corso di biomeccanica di nuovo ne parleremo profondamente, ma se aveste fatto la nostra academy lo sapreste già e chi l'ha fatta già lo sa. E la stabilità strutturale è quella che è data dalla nostra conformazione scheletrica, eccetera. La stabilità funzionale è quella che viceversa viene data dalla nostra muscolatura. E in questo caso nello squat e nello stacco abbiamo una grande capacità di stabilizzare, non dovremmo avere di questi problemi. E se una persona si sente di essere più stabile nella pressa rispetto allo squat e stacco, e attenzione molte persone confondono bracing e stabilità, quindi io sento di avere un miglior bracing, ok? Ma non una migliore stabilità. Se sento di avere più stabilità nella pressa rispetto squat e stacco, ragazzi c'è un serio problema, perché veramente di nuovo non sapete le basi di quello che è l'allenamento del generale resistance training. Dovreste avere una grandissima stabilità su stacco e squat, non sono esercizi che devono portarvi a dire ok non ho stabilità qua. È una stabilità che dovete creare voi perché avete meno bracing, però dovreste averla. Ok ragazzi questo è tutto per il video. Io il concetto che cerco di darvi, so che ho sparato cose a caso un po' randomizzate, però quello che cerco di farvi passare è che io mi rendo conto veramente che si cerca più semplicità in qualche modo e che quando si porta tanta complessità nelle argomentazioni sembra quasi come se si stessero dicendo cose a caso e di questo di nuovo io me ne rendo conto. Però il discorso che voglio fare è che non sono io che complico le cose, ok? Io cerco di fare il contrario, di semplificarle. Di nuovo vi ricordo i nostri corsi di biomeccanica, uno sta per uscire a settembre, uscirà a settembre e l'abbiamo iniziato a registrare adesso, c'è un anno di riprese per spiegare bene tutto quanto al meglio. Nel momento in cui ragioniamo sulla meccanica della cosciata, pensate soltanto a questo, io ho una rotazione pelvica, quindi antiversione e retroversione del bacino, ma ho anche simultaneamente una flesso estensione della spina, ho anche una flesso estensione dell'anca e una flesso estensione del ginocchio. Ci sono tanti livelli di regolazione in cui ogni distretto muscolare, che sono sempre gli stessi, a ogni movimento, se lo vogliamo scomporre, assolvono dei ruoli differenti e quindi c'è una comunicazione, una sinergia, una sinfonia, che è veramente tanto, tanto complessa, che si basa su cosa, su cos'è che realizza questa alzata? Non soltanto il comportamento dei muscoli, perché i muscoli si contraggono, basta, fanno quello, non è che decidono e se si contraggono hanno la stessa tensione, origine e inserzione, non è che possono decidere, no, all'origine mi contraggono di più, all'inserzione mi contraggono di meno, quindi loro si contraggono. Quindi cos'è che lo determina? Determina quella che è la conformazione della struttura scheletrica, quindi le diverse leve che ci sono in gioco, dove? Che sono diverse per ogni singola articolazione e la sinfonia che ne esce fuori. è una roba complicata, non posso dire la pressa fa un'estensione del ginocchio, un'estensione dell'anca, boom, tutto quello che sta nel ginocchio e l'anca, bah, è allenato, perché capiamo bene che ci deve essere una perfetta modulazione della forza contrattile di tutti i distretti muscolari, che deve tener conto dalle leve meccaniche, i vantaggi meccanici, dove? Non in un punto fisso che posso calcolare, ma in ogni singolo tratto di rom, quindi è veramente complesso come discorso, non può essere banalizzato in questo modo. E soprattutto dire, ah no, la rendi complessa di qua e di là, ragazzi, è complesso, io non posso veramente farci niente. Se non lo fosse, sarebbe un qualcosa di intuitivo che di base non avrei lavoro nel fare videocorsi, perché mi metto a fare un videocorso di biomeccanica, ma quella è una roba semplice, si studia, lo sappiamo tutti. Quindi auspicabilmente spero di aver chiarito alcuni punti e noi ci vediamo nei prossimi video.